E' passato circa un mese dalla grande festa per il ritorno del servizio operato da Pagloid. Oggi siamo qui ancora per una grande novità, ce ne dobbiamo aspettare altre su Livorno? Il servizio è lo stesso, ovviamente è un servizio operato da sei armatori importanti e oggi celebriamo l'arrivo della prima nave dell'armatore CMA CGM del servizio Amerigo qui a Livorno, quindi alla CMA CGM d'Alila. Tra le vostre linee ce n'è stata qualcuna che ha subito in modo particolare i posti della pandemia e della pandemia ancora in corso? La pandemia ha riguardato un po' tutte le linee di navigazione, in particolare tutte quelle, collegate soprattutto con gli Stati Uniti per quanto riguarda il porto di Livorno. Adesso fortunatamente stiamo vedendo una ripresa, stiamo registrando una ripresa dei traffici e una nuova ripresa soprattutto dei traffici in esportazione. Questi nuovi investimenti del gruppo, possiamo dire essere la prova verso la Darts in Europa o è un caso che arrivi adesso? Ma non è un caso, noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e continuiamo a credere nelle potenzialità del porto di Livorno, quindi continuiamo a investire da questo punto di vista, quindi con ottimismo, guardiamo il futuro con ottimismo sicuramente. Livorno ha margini di crescita ancora extra Darts in Europa o dobbiamo puntare tutto su quello? Livorno ha ancora dei margini di crescita, con una serie di interventi infrastrutturali, quindi stiamo aspettando tutti il completamento delle opere del microtunnel, l'allargamento del canale del Marzocco e un eventuale approfondimento ulteriore del porto dall'imboccatura fino alla Darts in Europa. Questo potrebbe consentirci di arrivare sicuramente a Darts in Europa in ottime condizioni.